Grazie alla nostra iniziativa si è riaperto un filo di dialogo, è una grande notizia questa che si sta discutendo su una proposta integrata da Juncker che offre condizioni migliorative rispetto a quella precedente e su cui il governo greco non ha chiuso la porta ma sta discutendo. Rispetto ad una situazione di dialogo completamente finito è già una buona notizia che il dialogo si sia aperto e noi speriamo di avere buone notizie, buone risultanze nelle prossime ore.